Oggi usiamo i Copic Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te E si ragazzi mettiamoci all'opera con i nostri pennarelli Copic Dei pennarelli fantastici di cui vi ho parlato In questo video qui abbiamo fatto insieme una mini recensione E vi ho spiegato tutte le caratteristiche di questo strumento fantastico per la creatività Adattissime per i fumettisti ma non solo Anche per gli artisti comuni, semplici, anche alle prime armi Oggi infatti faremo insieme un bellissimo fiore che scopriremo di là adesso Prima però se non mi seguite su Instagram venite subito a cercarmi Perché vi aspetto, vi aspetto sul mio Instagram Cercate Arte per te su Instagram, pennello bianco su fondo rosso, trovate me Così come vi invito anche a venirmi a trovare sui miei altri canali Ombretta E due quere una cappa, sempre qui su YouTube E non dimenticate di lasciarmi un pollice in su se il video vi piace E una condivisione sulle vostre pagine Facebook Ma ora basta parlare, andiamo di là e andiamo a disegnare con i nostri Copic Oggi disegniamo con i Copic E quindi una gamma Copic, quella relativa al disegno che vorrete fare Poi le nostre, le mie amate matite della Stedler Più una della Artline, sono penne inchiostro Una matita e un blocco per le Copic Vi ho detto io amo il blocco tecnico 6 della Fabriano Tutti i link dei prodotti li trovate qua sotto nell'info box Iniziamo subito a creare la nostra composizione Oggi andiamo di peonie Ma voi ci potete credere che questo simpatico uccellino Che fa questo verso così gradevole e ripetitivo Mentre uno cerca di concentrarsi sul mio disegno Si è appoggiato sulla ringhiera Ah, se n'è andato Finalmente Io amo gli animali Però certe volte hanno quel qui di un zucca e di un fastidiosetto Allora, ma guardi un po' va Se l'ha piazzato qua Ok, data la bozza Che non è neanche definitiva Comincio a colorare le mie peonie Anzi, comincio a ripassare con la penna le mie peonie Con una 0,1 A questo punto dobbiamo essere decisi Cioè, adesso dobbiamo andare a fare tutte quelle correzioni Che ci sembrano necessarie Per esempio, io qui il gambo L'ho fatto così un po' alla rinfusa Ma devo cercare il centro Ok, e farlo scendere giusto Perché il gambo non può essere ovunque Deve partire dal centro del fiore Quindi sia qui, qua va bene E lo tiro giù Capito come la parte preparatoria del disegno Sia soltanto effettivamente una bozza E adesso proseguo Ok E qui faccio venire fuori l'altra foglia Cambiando un po' il disegno Perché qui ho chiuso il gambo Quindi non posso inserirla Ho sbagliato Nell'improvvisazione ho sbagliato Voilà Lasciamo asciugare un attimo E cancelliamo le tracce della matita Adesso andiamo ad intensificare le linee Sfrangiando un po' tutto quello che abbiamo fatto Ed inserendo appunto Quelli che sono i caratteristici segni dei tratti Fatti nei disegni a penna Benissimo Data la prima passata di nero Perché poi ripasseremo i bordi principali Con una penna più spessa Credo che userò una 07 Procediamo alla coloritura Comincio A passare A verso Sui petali esterni Una base rosa Cioè sul lato esterno dei petali Una base rosa Io sto sfrangiando volutamente il colore Rendendo delle zone più chiare E delle zone più scure E delle zone più scure Gli scuri li faccio con lo stesso colore E vi vacizzo Altri particolari Con toni di rosso Differenti Che sovrappongo A quello che ho già dato Movimentando leggermente il colore Nella parte più in ombra Insisto Con un po' di grigio Che poi Sfumo Sempre con rosso Facendolo scaricare Ripassandoci su Prendo un top E rinvigorisco E rinvigorisco le ombre E tiro su Voilà Ad uno ad uno Adesso riempio tutti i petali In questa maniera Quindi Una base rosa Su quasi tutto Avverso Mi raccomando Intensifico Le zone più in ombra E adesso Aggiungo Il colore Aggiungo Un po' di giallo Per rischiarare E far brillare Maggiormente I rossi Mentre Aggiungo Una leggera ombra Sui fondi Tra un petalo E l'altro Prendi il rosso E tiro su Bene E continuo così A mettere Ovviamente Più Ah Sbaglierò sempre A mettere Più ombra Nelle parti Vedete Qui In basso Dove Il petalo Precedente Si unisce Al seguente E Più luce Invece Nelle parti Esterne Quindi Il colore Del petalo Più intenso Nella parte bassa È il colore Più chiaro Nella parte alta Che poi Andrò un po' A contaminare Con il rosso Più scuro Diventa Tutto Un lavoro Di sovrapposizioni Di tono Ora Piano piano Finisco tutto E poi Ci Riparliamo Per i verdi Una cosa Che detesto Nei copic Se devo essere Sincera E questa Interruzione Al video Voglio farla Per dirvelo È che I tappi Siano Perfettamente Uguali Io Per distinguere La parte col pennello E per distinguere La parte col marker Farei Una differenziazione Anche un giro Di colore Magari un cerchietto Bianco Nella parte col pennello E lasciarlo E lasciarlo normale Nella parte col marker Questo è un suggerimento Che do Proprio All'azienda Quando Anche Qualora Figuratevi Se mi sente Ma in generale È una cosa Che vorrò fare Anche io Adesso che ho Cominciato ad utilizzarli Cioè Mettere Un pezzettino Di scotch Colorato Sulla parte col pennello In maniera Che Durante La compilazione Di un disegno Io Non faccia Perché io Ragazzi Se c'è il 50% Delle possibilità Per me Quel 50% Diventa L'80% Di sbagliare Di possibilità Di errore Io apro sempre La parte col marker Poi devo Richiudere Riaprire la parte Col pennello E passare Ed è una perdita Di tempo In maniera Quindi L'azienda Non lo fa Facciamolo noi Diamo un Tocco di colore Al tappo In modo da Riconoscere subito Qual è la parte Col pennello E la parte Col marker Che io Ancora Non ce l'ho E quindi Ogni 5 minuti Sbaglio E la cosa Mentre disegno Mi innervosisce Non poco Perché disturba Proprio La concentrazione Sì Devo fare Questa cosa È un suggerimento Che do A tutti Proprio E ve lo do Mentre sto lavorando Proprio perché È il disagio Più grande Che sto provando Nell'utilizzarli Che disturba Invece Il grande divertimento E la grande Goduria Di utilizzare Un prodotto Così Bello Così Sì Bello E facilmente Utilizzabile Poi Per quanto Concerne I verdi Ripasso Con questo Verde Scurissimo Un attimino Le linee Che poi Dovrò Comunque Ripassare A penna Perché La penna Non deve Essere Persa Le parti Più in ombra Quindi Prendo il verde Chiarissimo Ripasso Ripasso Tutto Col giallo Cerco di dare Diversi toni Di verde Con i colori Che ho a disposizione Viola Un attimino e continuo così a compilare tutto il disegno ora che vi ho fatto vedere anche come tiro fuori il verde della foglia che deve essere un verde vivido non spento posso continuare adesso semplicemente a disegnare voi state con me magari con una bella modicata e una tazza di tè a vedermi grazie a tutti 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 grazie a tutti